Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e bentornati nel mio antro, nel mio laboratorio. Anche se, vabbè, si vede, è un garage. Oggi siamo qui per andare a costruire uno strumento che secondo me potrebbe piacervi. Lo strumento a cui mi riferisco è chiamato sega a telaio ed è solitamente molto più performante rispetto ai più frequenti seghetti richiudibili. Qui in Italia non è molto utilizzata, o perlomeno poca gente ne documenta l'utilizzo. L'ho vista utilizzare davvero da poche persone. È molto più frequente ritrovarla in America, nel nord Europa e in particolare nei paesi scandinavi, soprattutto la Norvegia e la Svezia. È possibile infatti ritrovarla in numerosi manuali sia riguardanti il bushcraft che riguardanti la falegnameria, la carpenteria e in generale la lavorazione del legno. Questo disegno rappresenta il modello che voglio andare a creare io oggi. Come vedete ha una struttura molto semplice, ci sono queste tre parti in legno. Ovviamente il tutto è smontabile per essere trasportato in maniera più comoda. C'è questo tensionatore che serve appunto per mettere in tensione la corda che va da un'estremità all'altra delle parti di legno. E anche la lama della sega andrà da un'estremità all'altra e sarà fissata tramite due fori nel legno. Non è particolarmente difficile la creazione di questo modello, l'unica difficoltà al massimo sarà quella di andare a modellare i pezzi di legno in modo tale da rendere prima di tutto il design un po' più accattivante, ma soprattutto andare ad alleggerire la struttura, quindi sarà più facile anche il trasporto. Dunque, gli ingredienti che andranno a costituire la nostra sega a telaio sono davvero pochi, per la precisione 4. Innanzitutto c'è la nostra lama, senza di questo ovviamente non facciamo nulla. Io l'ho comprata da 53 cm. Per fissarla al telaio utilizzerò queste viti da 6 mm accompagnate da rondelle e da dadi ad aletta, in modo tale da poterli avvitare senza l'ausilio di altri strumenti. Si potrebbero evitare le viti in realtà, si potrebbero usare dei rametti, dei tondini di legno, però io preferisco utilizzare queste. Poi c'è la corda, o in questo caso dello spago, io avevo questo in casa, quindi dato che è a costo zero, utilizzerò questo. E per finire c'è ciò che andrà a costituire il nostro telaio, ovvero quest'asse di legno di abete. Ho scelto l'abete perché è molto leggero, ma soprattutto di facile reperibilità. Potrete trovarlo in qualsiasi negozio di fai-da-te e quindi quando vorrete farvi la vostra sega a telaio potrete trovarlo senza particolari problemi. La spesa totale di tutti gli ingredienti è poco più di 10 euro. Direi spesa più che accettabile, dato che è più o meno quello il prezzo dei seghetti richiudibili economici. E comprende sia le viti con dadi, rondelle eccetera, sia l'asse di abete, che la nostra lama che è da ben 53 centimetri. Beh, basta, direi che ho parlato fin troppo, mettiamoci al lavoro. Per modellare i pezzi di legno utilizzerò il coltello, in particolare il Mora Companion Heavy Duty. Penso che sia lo strumento più veloce e preciso che ho al momento a disposizione. Per modellare i pezzi di legno di legno di legno di legno di legno, in particolare il legno di legno di legno di legno di legno di legno. Dopo averli modellati grossolanamente, prima di andare ad arrotondare i vari spigoli come ho fatto sul pezzo di prova, andiamo a creare l'incavo nel quale si incastrerà la trave centrale. Questo è il momento più delicato in cui l'abete potrebbe mostrare i suoi punti deboli. Dobbiamo fare molta attenzione perché il legno si potrebbe rompere. Go startevi da fare l'incazare fredda. Ma stessa facendo una strada di legno di legno di legno di legno di legno, che faccia i legno di legno di legno, l'oncone di legno, che faccia i legno d'armi, inoltre legno di legno di legno di legno, l'osce fredda, il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Abbiamo quasi finito. Anche la trave centrale è pronta, quindi voilà. Praticamente abbiamo il nostro telaio. Manca soltanto la corda con i tensionatori. Abbiamo finito. Questa è la corda. Andiamo a mettere il tensionatore all'interno e iniziamo a roteare. Andrà sempre più in tensione. Vedete? Questo qui non se ne viene più. E voilà. Ora possiamo andarla a provare nel bosco. Andrà sempre più inizia. Andrà sempre più inizia. Iniziamo subito in grande con un bel pezzo di legno. Ha un diametro importante. Infatti non lo taglierei mai con un seghetto pieghevole. È troppo grosso, ci metterei una vita. Mentre con questo dovrei metterci giusto qualche minuto. Vediamo se è davvero così prestante come vi ho detto. proviamola di nuovo con quest'altro bel tronco. Vediamo se è davvero Sergeant Parker. avete visto quanto è grande praticamente quanto la mia mano con il mio la blender non l'avrei mai tagliato invece con questa è stato facilissimo praticamente beh ragazzi che ne pensate secondo me è venuta perfetta ovviamente si può migliorare a livello di mano d'opera però lavora alla perfezione cercavo qualcosa di più performante da utilizzare in uscite di più giorni dove devo costruire strutture ripari eccetera e secondo me questa va benissimo non posso perdere le ore per tagliare dei tronchetti grandi così purtroppo con un chiudibile si fa molta più fatica e invece con questa sega telaio finalmente potrò lavorare tranquillamente e molto meglio la cosa bella è che è molto leggera essendo in abete è una volta smontata non occupa tanto spazio anche se mi dovesse uscire un po dallo zaino per me non è un problema dato che lo fanno già i manici delle accette che già mi porto dietro un altro punto a suo favore secondo me è che è modulabile se non mi dovesse servire così grande con una lama così lunga potrei sempre andare a creare una nuova trave centrale in modo tale da accorciare la struttura e poter montare una nuova lama più corta come ad esempio questa qui da 30 centimetri senza dover andare a ricostruire tutto quanto da capo comprese le due parti laterali beh spero che vi piaccia fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate e soprattutto se volete vedere un confronto con il mio baco la blender che di certo male non è come al solito mettete un mi piace condividete il video e soprattutto se non siete iscritti al canale iscrivetevi venitemi a seguire anche su instagram e noi ci vediamo con un prossimo video ciao ciao